L'organico della questura di Catanzara avrà un incremento di 100 uomini, lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli parlando con i giornalisti nel capoluogo calabrese dove ha inaugurato la sezione giovanile delle fiamme oro. Nella ridefinizione degli organici ha spiegato abbiamo fatto una scelta che ha anche una sfida e un impegno di una realtà che forse nel tempo non ha colto fino in fondo la complessità e la pericolosità di determinati fenomeni. Io sono particolarmente grato al procuratore Gratteri per la considerazione che ha in qualche modo rinnovato nei nostri confronti, fatta di attenzione, di deleghe, di indagini, però noi dobbiamo rispondere perché come cerco di far capire ai miei colleghi la credibilità non è un bene acquisito per sempre ma è un qualche cosa che si conquista ogni giorno, si conquista con il lavoro, si conquista a volte anche con un operoso silenzio, non con gli strepiti, non con le banalizzazioni magari di problemi che ci sono perché indubbiamente i problemi ci sono ma a volte quando verifico che l'enunciare il problema non è la soluzione o meglio la strada per risolverli ma per nasconderne altri allora questo mi preoccupa e in questo a volte intervendo non sempre con garbo e a condiscendenza. Grazie